oddio ragazzi oddio mi ha strappato i capelli i miei capelli non ci sono più non ho più i capelli ragazzi cos'è successo è successo che mi sono rotta le palle dell'estation dopo tre anni esattamente io non c'entro niente io glielo sono strappato tre anni ho voluto vedere ieri in che condizioni erano i miei capelli che in effetti erano arrivati a questa lunghezza ok però insomma devo dire che non è che erano molto contenti e di avere sempre sta roba appiccicata in testa allora penso che tra una settimana le rimetterò ovviamente ma va però oggi no questo era solo per dire rispondere a tutte le ragazze che siete molto carine e mi chiedono la routine dei capelli di barbara allora ovviamente non potevano essere i miei capelli perché così lunghi magari magari ragazze però effettivamente l'impegno è pazzesco perché queste session sono capelli veri io mi alleno come ben sapete tutti i giorni e sudo e quindi li lavo tutti i giorni e lavare e asciugare e stirare questa roba tutti i giorni è lunga ci metto almeno due tre ore quindi la mia routine di allenamento per i capelli i capelli hanno un allenamento e ovviamente li curo molto con le creme con i balsami con gli oli per evitare che si annodino perché i capelli così lunghi ovviamente io li tengo spesso legati ma come come sono sciolti ovviamente si annodano e sono bellissime sembra una cosa di un cavallo sembra la cosa di un cavallo è un cavallo rosso cavallo rosso cavallo rosso ragazzi quindi a me dispiace per chi adesso mi dirà c'avevi anche l'estation tutta finta tutta finta e io mi piaccio l'estation si c'è stato un momento ieri quando ero dalla parrucchiera che volevo quasi dire la cosa completa era rapata però dai li ha tenuti ancora ancora qua a questa lunghezza devo dire che come sta bene secondo me c'è un'ape che mi gira intorno ha rotto già le palle ha rotto già le palle basta a me piace anche il punto e va bene se vi piaccio bene se non vi piaccio pazienza non so quanto riuscirò allora a me qualche giorno io ho già preso l'appuntamento qualche giorno di ottobre per riattaccarle quindi fino all'8 di ottobre voglio proprio vedere devo resistere quei capelli alla mano sul fuoco non ce la metto prima prima la ragazza che mi attacca l'estation fino all'8 di ottobre e quindi anche volendo me le devo tenere così a meno che le attacchi da sole sì come faccio con la graffettatrice come dell'attacco e queste sono queste sono strisce che vanno attaccate con la tessitura quindi col col filo e con i micro ring è un lavoraccio immagino però vabbè insomma cercherò di resistere ma ho voluto fare questo video perché se non l'avessi fatto sapevo che mi avreste chiesto oddio cos'è successo ai capelli perché ti sei tagliate i capelli allora prima che voi diciate qualunque cosa vi abbiamo spiegato il perché sono senza capelli perché glielo strappate io perché me le ha strappate Alberto c'è sempre un motivo vabbè ragazzi volevo fare tipo l'uomo delle caverne sai che porta la pipa con la prova in mano così così andiamo fa scena e va bene vi sono piaciute le nostre ricette io direi proprio di sì adesso ne arriva una bomba che è una cosa adesso o domani o dopo decideremo quando farvela vedere arriva una bomba ragazzi che se non la provate provate facciamo più ricette il cannavacciuola ci fa una pippa ci fa una pippa ok è un dilettante in confronto va bene ragazzi è stato bello oggi è stato un video così un po per tenervi informati abbiamo appena fatto un bellissimo seminario e chi se ne è perso mi dispiace è stato veramente bello devo dire che oggi è stata una bella esperienza si le persone che c'erano al seminario tutte persone molto carine che ringraziamo che ringraziamo lo facciamo grazie ragazzi grazie mille e devo dire che mi è piaciuto e magari in futuro ne faremo ancora faremo sicuramente altri adesso a roma non credo che riusciremo a andare perché abbiamo altri io ho altri viaggi e diventa un po casino ma sicuramente nelle nostre zone riusciremo a fare qualcosa per cui state all'occhio e teneteci d'occhio qui sta arrivando un tifone adesso tra un po tra gli aghi di pino e le mosche e le zanzari e le api ci fanno neri va bene noi vi ricordiamo di mettere like anche se non vi piacciono i capelli pazienza cliccate like iscrivetevi al nostro canale anche i miei sono belli eh fate quello che volete insomma noi come al solito vi facciamo vi facciamo vi abbracciamo vi strapazziamo vi facciamo di tutto no aspetta fai di tutto un attimo sì sì noi vi facciamo di tutto picchiamo frustiamo pigliamo a calci perché da me quello vogliono no sì da me sì ah da te però da me no io ragazzi ho un seguito di persone che vogliono e io mi presto a tutto quindi sto scherzando no non sto scherzando ma che c'è un coso qua ah va bene per oggi è stato bello da dove siamo Castiglione Olona da Castiglione Olona è tutto tra l'altro una bellissima cittadella devo dire da venire a visitare perché è un borgo antico in provincia di Varese molto bello e ne vale la pena va bene veniteci a trovare anche a Milano e continuate a seguirci ciao 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 ciao